Angel? Sì? C'è qualcosa che volevo fare da un po' di tempo ormai, hai un minuto? Ehm, anche due, di che si tratta? Beh ti ho preso questo, non è esattamente un anello costoso ma c'è una caramella sopra Ma volevi regalarmi una caramella? Puoi stare zitto e farmi finire Ok E alla fragola, il tuo preferito? Sì, sì, è buono, mi piace, sì mi piace C'è altro che volevi chiedermi? Ci tenevo a farti una proposta Ok Tipo adesso Ehm, ok Io voglio Che ti rimetti in riga e cerchi di capire perché ti trovi in questo stradanato hotel Questo è quello che voglio Ti prego Riprenditi la tua vita, Angel Ok, papà Va bene, lo farò Oh, è la prima volta che mi chiami papà E non sarà l'ultima, papi? Ok, questo gioco non mi piace più, me ne vado Non ci sono vie di fuga, radio tonto Hai ragione Il che vuol dire che sei bloccato qui con me Oh, oh, Angel La conosci la barzelletta sua Adamo ed Eva? Cazzo! Sai che facevano Adamo ed Eva a teatro? Facevano il melo Dramma Porco di...